Poker Texano, la nuova frontiera del divertimento online. Il poker online è il suo successo, dove possiamo giocare a poker texano in rete e dove possiamo imparare a giocare. Alcuni utili consigli con link di approfondimento recensiti sul poker texano, dei poker rooms e le risorse migliori della rete. Il poker texano, variante del poker classico, ha trovato grazie alla rete la sua dimensione. Internet pullula di siti a tema poker che, grazie alla variante Oldham, hanno riscontrato un successo planetario. Il poker texano, versione online, è sicuramente il gioco del momento. Un gioco semplice e divertente che appassiona milioni di utenti in tutto il mondo. Dove possiamo giocare a poker texano online e, soprattutto, dove possiamo imparare questo gioco e le sue numerose sfumature? Andremo ora a raccontarvi alcuni dei siti a tema poker più importanti della rete. Il primo sito preso in esame è pokerstars.it. Questo sito è una vera e propria poker room, una sala da poker virtuale. Al suo interno potrete giocare a tutte le varianti di poker esistenti. Questa poker room, famosa in tutto il mondo, anche grazie alla costante presenza televisiva, vanta un numero di affiliati tra i più alti al mondo. Senza dubbio parliamo di uno dei colossi del poker online a livello mondiale. Il secondo sito di cui vogliamo parlarvi è gametime.it. Questo giovane sito tutto italiano è una guida a tema giochi. Nella sezione giochi azzardo troveremo articoli e directory a tema poker. Il poker texano è l'argomento trattato in modo più approfondito nell'ambito poker. Game Time è una giovane risorsa web che dà una panoramica del poker online decisamente diversa. Nel sito, infatti, troveremo una guida al poker molto sana e chiara. Tutte le dinamiche di questo gioco sono trattate con grande serietà e distacco. L'obiettivo sembra quello di dare all'utente un'idea vera imprecisa del poker online gratis e nulla. Nel portale sono previste a breve delle interessanti iniziative riguardo il mondo del poker online. Se il buon giorno si vede dal mattino, altra risorsa molto interessante ed ha il grande nome è PokerListing.it. Questo grande portale a tema poker è una delle risorse più importanti del web. Il poker texano e non è trattato sotto ogni punte di vista e gli argomenti di sicuro non mancano. Nel sito, oltre ad articoli e directory a tema poker, troveremo recensioni sulle migliori poker rooms della rete, i bonus offerti dalle sale Poker Online, una scuola poker ben costruita e mille curiosità dal mondo del poker texano. Questa risorsa è la versione italiana dell'originale americana, utile a tutti quelli che già conoscono il poker online e anche a chi sta avvicinandosi. Una grafica accattivante e una presentazione chiara completano l'offerta. L'ultimo sito che commenteremo è romexplorer.it, sezione giochi. In basso a destra troveremo la sezione di riferimento del poker online. Questo grande portale multitematico non poteva non trattare il poker texano. Girovagando tra articoli e directory a tema poker online, avremo una visione completa di questo mondo. Le regole, le strategie, le poker rooms migliori e tante curiosità vanno a completare la sezione dedicata al poker. La notorietà di questo portale non è cosa di oggi. E come per tutti gli argomenti discussi, anche il poker texano viene trattato in modo semplice ed intuitivo. Numerosi i link di approfondimento presenti. In conclusione vi consigliamo, prima di gettarli nella mischia, di imparare a giocare al poker texano, in modo graduale. Anche se questo è un gioco per tutti e gli investimenti sono sempre molto bassi, è sempre meglio non rischiare di cadere preta dei giocatori preesperti.